Essere nato e cresciuto in Alto Adige ha introdotto la cultura tedesca nella mia cucina. Hengstenberg arriva proprio dalla Germania, la nostra vicina di casa, e da tre generazioni porta a tavola la qualità grazie ai suoi sottaceti. Gli immancabili knacks, i cetrioli sottaceto croccanti aromatici saranno i protagonisti di oggi. In pochi passi preparerò per voi una ricetta squisita per l'aperitivo made in Alto Adige. Inizio mettendo in una pentola l'acqua e il grano saraceno, salo, chiudo con il coperchio e porto a bollore. Lascio cuocere il grano saraceno per 15 minuti e lo lascio raffreddare coperto. Tosto gli anacardi in una padella antiaderente ben calda. Ora mi dedico al pesto di prezzemolo. Frullando insieme il prezzemolo, gli anacardi tostati e l'olio extravergine di oliva. Ora i protagonisti, i cetrioli knacks che taglio a rondelle. Mescolo al grano saraceno gli spinacini, la trotta affumicata a bocconi, i cetriolini, il succo di mezzo limone e il pesto di prezzemolo. E l'aperitivo made in Alto Adige è servito. La cura e rispetto dei naturali processi di coltivazione, donano ai cetrioli un inimitabile gusto e aromaticità. Inoltre i cetriolini si accompagnano benissimo con l'affumicato della trotta salmonata, un piatto veramente delizioso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.